Salve gente! Oggi vorrei parlare di un meccanismo psicologico che si innesca nel momento in cui dobbiamo o dovremmo cambiare routine, per esempio quando siamo in massa e dobbiamo iniziare a definire, oppure quando siamo nel pieno della definizione, nella fase finale della definizione e dovremmo iniziare la fase di massa. Ebbene, che cosa succede? Nella fase di definizione, questo è il caso in cui, la situazione in cui mi trovo io adesso, succede che uno si vede così bene, tra virgolette, cioè si vede definito, si vede tirato e non vorrebbe mai tornare a mangiare di più. Questo perché ovviamente sa che nel momento in cui inizierà a mangiare i risultati della definizione, la situazione fisica che si è ottenuta con la definizione è destinata a cambiare. Ci si appanna un poco e si perde quel tiraggio, quella definizione che si è ottenuto. E questo è normalissimo. Il problema è che questo meccanismo mentale, questa paura, questo ritardare, il cambio di fase, il cambio di routine, perché si vuole appunto godere di questa situazione, diciamo apparentemente ottimale per più tempo, ci spinge a peggiorare la situazione, ci spinge a non migliorarci, ma piuttosto addirittura in certi casi a perdere gains, per così dire, ovvero a perdere massa magra, nel caso della definizione. Cioè nel momento in cui si prolunga la definizione più del tempo, più del dovuto, ebbè, soprattutto se la definizione è estrema, se la routine è estrema, ovvero se i macro assunti sono molto bassi, per mantenere un certo tipo di, una certa definizione molto estrema, ebbene c'è il rischio appunto di perdere massa magra, di perdere muscoli. E questo ovviamente non è ottimale, per ragioni abbastanza ovvie, però per cui bisogna cercare di cambiare totalmente mindset, bisogna cambiare la mentalità, cambiare cervello, e convincersi a cambiare routine, a tornare a mangiare. Il che può sembrare paradossale, perché chiunque vorrebbe tornare a mangiare di più, però per chi di voi capisce che cosa intendo, quando ci si abitua a una certa routine di definizione, si mangia, diciamo in un certo modo, in modo molto scrupoloso, e fa un po' male dover tornare a mangiare come prima, comunque come si mangia in massa, ovvero a reintrodurre molti carboidrati. Per cui, come ho detto, bisogna cambiare totalmente mindset. E la stessa cosa accade nel momento in cui siamo in massa, abbiamo ottenuto una certa massa muscolare, anche una certa massa grassa, e dobbiamo definire, dobbiamo dimagrire. E qui la paura è esattamente l'opposto, perché visto che quando siamo in periodo di massa abbiamo acquisito un mindset appunto da massa, quindi il nostro obiettivo è quello di aumentare il più possibile di peso e anche di forza, ovviamente, ebbene fa un po' male dover perdere una parte di quel peso, comunque una buona parte di quel peso, anche se ovviamente lo scopo è quello di perdere comunque più massa grassa, e quindi di ottenere un fisico leggermente più muscoloso di quello che avevamo nel ciclo precedente, presumibilmente l'anno precedente. Per cui, come ho detto, bisogna cambiare mindset, bisogna cambiare mentalità, bisogna costringersi, avere dei periodi fissi in cui abbiamo pianificato di iniziare una nuova fase e quindi di cambiare totalmente la nostra routine e le nostre abitudini. E con questo vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.